Ben ritrovati, edizione della sera del magazine di Telecosta Asmeralda, in primo piano naturalmente il turismo, le vacanze, tanta voglia di vacanza anche a settembre, pensate che in questo periodo sono in viaggio circa 11 milioni e mezzo di vacanzieri in tutta Italia. Settembre si conferma ancora mese di vacanze, sono 11 milioni e mezzo gli italiani che scelgono l'ultima parte dell'estate per viaggiare uno o più volte per un totale di 12 milioni e mezzo di partenze, arrivando a spendere complessivamente quasi 5,2 miliardi di euro. L'indagine dell'osservatorio turismo della Confcommercio SVG scatta così un'istantanea dei vacanzieri cosiddetti di spalla, quelli cioè che preferiscono spostarsi nella coda della stagione per intercettare offerte più convenienti e località certamente meno affollate e libere dal caos ferragostano. Viaggiare a settembre si rivela comunque una scelta fortemente voluta, non un ripiego. Tra le motivazioni di base infatti un italiano su tre lo definisce il mese migliore per visitare la destinazione prescelta e uno su quattro dichiara di preferirlo perché è il mese in cui il territorio si anima di spettacoli, eventi culturali e iniziative. Inoltre in sei casi su dieci i viaggiatori hanno già deciso a inizio mese dove e con chi andare e la metà ha stabilito anche dove alloggiare, mentre il campione si dimostra più flessibile sul budget da mettere a disposizione. Vincoli familiari di lavoro e di studio non favoriscono però le lunghe permanenze a destinazione. Meno del 18% saranno infatti viaggi di sette giorni o più. Oltre il 60% delle partenze saranno invece per uno o due pernotamenti al massimo. Il mare rimane in vetta alle mete di viaggio per 4 italiani su 10, sebbene città d'arte e montagne attengano bene, totalizzando un ulteriore 30% delle preferenze. Lo conferma anche la graduatoria delle regioni selezionate come Top Destination, Liguria, Toscana, Campania, Trentino Alto Adige, Lazio e Sardegna. L'orizzonte di riferimento è quasi esclusivamente nazionale. Il 13% degli intervistati farà viaggi all'estero, soprattutto in Europa, tanto che il mezzo di trasporto principe, per chi parte a settembre, è l'auto privata, utilizzata da 6 italiani su 10. Contrariamente ad agosto, l'albergo torna al primo posto nelle scelte. Lo preferisce il 31% degli italiani in viaggio, mentre seconde case di proprietà o in affitto e l'ospitalità di amici e parenti totalizzano complessivamente il 22%. B&B e affitti brevi, probabilmente trascinati dall'attrattività di città d'arte e borghi, attraggono invece un italiano su tre. Avete sentito Settembre, ricco di eventi anche sportivi. Allora ci diamo appuntamento dal 17 al 24 di settembre per il Brazilian Jiu Jitsu a Cagliari. Nelle facce dei ragazzi, tutti volontari, tutti, provenienti da qualsiasi parte d'Europa e pure dall'America, già agli Stati Uniti, c'è l'essenza di questo appuntamento. Sportivo, sì, e di richiamo, pure turistico. C'è il Brazilian Jiu Jitsu, 800 atleti, 52 paesi in rappresentanza, 40 tra i più influenti maestri mondiali della disciplina. E c'è Settembre. Un mese dei grandi eventi sportivi e dei grandi eventi in generale. Si allunga la stagione e questo evento, pensate che porta 800 atleti già iscritti da 51 paesi di tutto il mondo. Resteranno almeno 8 giorni a Cagliari, verranno portati all'interno dell'isola per degustare e apprezzare questa bellissima regione che promuove una città. Quindi gli eventi sportivi, ancora una volta, fanno la differenza. Intanto lo sport è la Summer Week di Jiu Jitsu, disciplina che a volte, e non è questo il caso, è considerata particolare di nicchia invece. Questa ottava edizione è davvero monumentale. 800 atleti e quindi un indotto con 1500-1600 persone, comprese le famiglie, una settimana di competizioni, di aggiornamenti tecnici. Quest'anno abbiamo un po' esagerato, ci saranno 25 professori, due tornei, un torneio ufficiale che partirà domenica, che è la prima tappa italiana che apre la stagione della Federazione Italiana di Jiu Jitsu. A ospitare la Kermessi, il Palarock Feller e Montemigia, a questo aggiungiamo tutta una serie di iniziative culturali, enogastronomiche e di promozione del territorio. La formula è con una serie di eventi che non sono solo sport, ma che coniugano la cultura e la tradizione sarda. Quindi ci saranno degli eventi come le gite, le escursioni, i laboratori artigianali, quest'anno abbiamo previsto i laboratori di cucina, i laboratori anche di altre arti tradizionali sarde. Quindi la formula è la stessa, però confermata e potenziata. Anche perché l'agenda dello sport in Sardegna è e rimane è un investimento, non una spesa. L'ho detto dall'inizio, pensate che con un investimento di circa 180 mila euro che ha messo la regione con un bando triennale, c'è un fattore moltiplicatore di almeno una a 7, una a 10. La città di Cagliari incasserà oltre il milione di euro. Che evento sia, dunque, non solo sportivo e spettacolare, come mai ormai ci siamo abituati, anche di promozione territoriale. E rimaniamo sullo sport perché da ieri mister Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari. Claudio Ranieri è cittadino onorario di Cagliari. Lo ha deciso il Consiglio Comunale che con votazioni unanime sulle due proposte presentate dai primi firmatari Matteo Massa e Andrea Piras ha attribuito l'importante riconoscimento all'allenatore rosso-blu. Considerato, si legge tra le motivazioni, l'attaccamento e l'amore di Claudio Ranieri alla città, che ha sempre considerato come la sua seconda casa. Le imprese di mister Ranieri con il Cagliari rappresentano un patrimonio di memoria collettiva per le Cagliaritane e i Cagliaritani e per tutti i tifosi in Sardegna e fuori dall'isola. Dal 12 settembre, quindi, Ranieri è ufficialmente un cittadino onorario del capoluogo sardo. A votare in maniera compatta è stato tutto il Consiglio che nella seduta guidata dal Presidente Edoardo Tocco alla quale ha preso parte anche il Sindaco Paolo Truzzo ha espresso il parere favorevole di tutti e 32 i consiglieri presenti in aula. Sì, credo che mi si passi il termine forse un autodovuto. È un riconoscimento importante che l'amministrazione comunale vuol dare ad una persona che, oltre ad essere uno sportivo, un grande allenatore, una persona molto attaccata alla Sardegna quindi è un momento importante che vogliamo riconoscere a Ranieri anche il grande risultato che ha ottenuto per la nostra città e per la nostra Sardegna con grande sacrificio, grande abnegazione il suo attaccamento da tanti anni alla nostra isola, alla nostra città quindi era il minimo che potessimo fare. L'amministrazione comunale chiaramente glielo doveva. E il diretto interessato ha affidato ai canali ufficiali del Club Rosso Blu i suoi ringraziamenti. Ringrazio di cuore il Sindaco e tutta l'amministrazione comunale per avermi concesso la cittadinanza onoraria e un riconoscimento che mi riempie di orgoglio e mi ho sentito ringraziamento Val Cagliari Calcio e i miei due presidenti Tonino Rucconi, i suoi fratelli, e Tommaso Giulini. La città di Cagliari e l'isola mi hanno accolto per la prima volta tanti anni fa e da allora hanno sempre fatto parte di me. Anche quando un giorno le nostre strade si sono divise la gente ha continuato a farmi sentire speciale senza mai perdere occasione di dimostrarmi il suo affetto. Mi avete fatto sentire sempre come uno di voi. Se ritrovarci era nell'ordine naturale delle cose festeggiare ancora insieme, contribuire a far felice un intero popolo è stata in assoluto per me tra le emozioni più grandi. Riconquistata la Serie A abbiamo ancora tanta strada da fare e servirà l'aiuto di tutti. L'allenatore nato a Roma non era presente al momento della votazione ma nelle prossime settimane verrà organizzata la consegna formale del riconoscimento. Da presidente di Consiglio Comunale non posso che chiedere quale sarà adesso l'iter. Una volta che questo documento ovviamente uscirà dall'aula poi si procederà alla manifestazione vera e propria che sarà sicuramente intorno ai primi di ottobre quando Ranieri con i dirigenti del Cagliari e lo stesso Cagliari verranno qui in aula da noi. Ancora calcio nel nostro magazine ma quello di una storia d'amore tra Tempio e la Gallura vediamo di cosa si tratta. Anche per la stagione sportiva d'eccellenza 2023-2024 il Tempio Calcio dà il via alla campagna abbonamenti con un emozionale cortometraggio. Lo scorso anno il soggetto era un amore senza tempo che non conosce ostacoli. Il video girato nella città gallurese raccontava la storia di una coppia tempiese per tanti anni separata dalla guerra e quello per la squadra di calcio che iniziava ufficialmente la propria attività sportiva nel 1946. Quest'anno il corto si intitola Orgoglio di Gallura ambientato nella pittoresca chiesetta di Santa Lucia nelle campagne di Tempio Pausania tra ispirazione dalla storia dei luoghi che fino alla metà del secolo scorso fungevano da arene per risolvere i conflitti dove frazioni contrapposte si scontravano per raggiungere la pace. Emo d'andaste di nob è alto di va emo d'andacquittà di chissicare i giusti Eia, ma ond'è l'appuntamento? Ci rima l'albero della ragione Orgoglio di Gallura è lo slogan che l'US Tempio utilizza quest'anno per la campagna abbonamenti 2023-2024 ma è anche il titolo del cortometraggio che abbiamo realizzato io e Enrico Pinna partendo da un'idea di Francesco Ledda per valorizzare il territorio di Tempio e la sua gente. A Tempio in passato, per dirimere le controversie c'erano dei luoghi dei putati uno di questi era l'albero della ragione due gruppi di bambini si incontrano in uno stazzo sembrano doversi affrontare, arrivare quasi alle mani in realtà tracciano un campo giocano una partita di calcio la partita termina i ragazzi si abbracciano dove? sotto un albero, l'albero della ragione ecco, il calcio unisce questo è il messaggio che si vuole dare la fierezza della gente di Tempio ma allo stesso tempo risolvere, voler risolvere fortemente i problemi abbiamo deciso di girare il corto nella splendida location della chiesa di Santa Lucia e di far recitare i bambini in Gallurese questo per valorizzare il territorio e per far emergere l'orgoglio dei tempiesi il corto termina con la luce del sole che rivela i colori delle maglie indossate dai ragazzi con il logo del team sul petto simbolo del loro amore per il calcio e dell'orgoglio di rappresentare la loro squadra il video è un omaggio alle tradizioni e alla fierezza dei tempiesi è proprio vero che il calcio è orgoglio in questo caso unione ma è anche fucina di talenti allora godiamoci il calcio del futuro nel torneo Giovani Talenti il calcio è da sempre una fontena esauribile di giovani talenti non solo nel reparto offensivo ma anche in difesa e nel centro campo promesse under 17 che esprimono sempre un alto livello tecnico e soprattutto una passione che va oltre l'agonismo e per quanti giocano nelle fila del campionato allievi in vista della ripresa della stagione 23-24 che partirà ad ottobre un primo test di prova è stata la partecipazione nei giorni scorsi al torneo Giovani Talenti organizzata a Cagliari dalla società Sigma nei campi del vecchio borgo Sant'Elia una manifestazione che ha coinvolto anche il Cagliari la Torres, il Latte Dolce Sassari e il COS Sarra Busso Gliastra abbiamo deciso di fare questo torneo come Sigma insieme al responsabile storico giovanile nostro e a tutti quanti i nostri dirigenti a settembre proprio per fare un test per le squadre migliori in Sardegna perché c'era Latte Dolce c'era il Cagliari Calcio c'era la Sigma c'era il COS insomma tutte quante squadre blasonate che alla fine si dovranno giocare il titolo regionale o addirittura i Cagliari fare un torneo nazionale giornata bellissima molto caldo molti genitori al seguito alla fine quindi mi ritengo soddisfatto per il livello tecnico visto oggi in campo è un modo però anche per rivitalizzare un quartiere bellissimo nella nostra città è una società che in questi anni ha iniziato tanto da fare il Vecchio Borgo Sant'Elia il Vecchio Borgo Sant'Elia innanzitutto tengo a precisare che la persona di Vladimir Omurgia e anche la sua famiglia tutti quanti il Vecchio Borgo è l'unica squadra che in questi due anni ha dato una mano alla Sigma a rimanere in piedi il torneo ha proposto due gironi al mattino e una fase finale la sera vincitrice la Torres che quest'anno con gli under 17 parteciperà al prossimo campionato nazionale allievi di Serie C sono tornei che ovviamente danno la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra soprattutto perché siamo all'inizio della stagione quindi ci sono situazioni che proviamo anche con cambi ruolo insomma sperimentiamo un po' almeno credo un po' tutti gli allenatori tanta socialità perché riuniscono le famiglie riuniscono insomma meglio che il calcio sa esprimere sì la cosa bella che oltre all'aspetto sportivo appunto c'è anche un aspetto diciamo sociale perché vengono tanti genitori a vedere i propri figli anche i ragazzi comunque si incrociano e sono ragazzi che vengono praticamente da quasi tutta la Sardegna da Sassari, da Cagliari insomma quindi si conoscono, socializzano in campo se le suonano di santa ragione ma poi credo che tutto finisca nel terreno di gioco e poi vedo che quando finiscono si salutano e si apprezzano la vicenda Il calcio del futuro dunque si è visto in questa prima edizione di un torneo che la società Sigma vorrebbe ripetere il prossimo anno trasformandolo in un appuntamento fisso come vetrina per appunto giovani talenti nella speranza come ha auspicato il patron Cossu di poter presto contare sui campi di via Castiglione oggetto di un project financing al vaglio del comune di Cagliari In questo momento il comune di Cagliari non è più fiduosore di quel mutuo la Sigma non è più debitrice di niente in credito sportivo non ci sono più scuse che il sindaco in primis con tutta la giunta e il consiglio comunale portino il progetto in aula loro portano il progetto a gara noi parteciperemo alla gara e poi vedremo se vinceremo siamo in grado di finanziare il progetto con le tasche nostre È tutto, naturalmente io vi ringrazio per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi do appuntamento come sempre alle prossime edizioni Arrivederci Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!